Si chiama Sedimentazioni, è il progetto della compagnia Abito in Scena presentato dall'assessore alla cultura del Comune di Potenza Stefania Dottavio e dall'attrice Monica Palese nella cornice della Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza. Con Sedimentazioni il capoluogo diventa fucine di nuove leve artistiche. Si parte dai 18 anni fino ai 35. Sedimentazioni è un progetto sul ricambio generazionale che prende parte ad una progettualità più grande di rete FUS, riconosciuta dal Ministero della Cultura, che vede collaborare insieme quattro regioni del centro-sud. Attraverso Sedimentazioni creeremo la possibilità a giovani ragazzi di far emergere i loro talenti e professionalizzarsi. Lo faremo lavorando in diversi luoghi della città, partendo dal Teatro Polivalente, arrivando al Museo Archeologico Nazionale e finendo con un'azione performativa conclusiva al Teatro Stabile. Dopo lo stop imposto dalla pandemia c'è tanta voglia di ripartire. Assolutamente sì, ora ancora di più. C'è un gruppo molto motivato che ha dato subito adesione, che fa capo al liceo classico Quinto Razio Flacco di Potenza, c'è il gruppo di magazzini sociali che ha stipulato con noi un protocollo di intesa perché è desideroso di prendere parte sia all'attività formativa che all'attività complessiva del progetto. E c'è sì, tanta tanta voglia da parte anche di altri ragazzi che in queste ore ci stanno dando adesione e stanno manifestando l'interesse a partecipare. Ma l'abilità, come ricordato dall'assessore Dottavio, va supportata dalla competenza. Il lavoro di abito in scena ha ricevuto anche il Placet Ministeriale. Gli attori si nasce ma si diventa e il titolo di questo progetto ci fa comprendere come un'abilità può trasformarsi in una competenza, una passione può diventare una professione e grazie a questo ad abito in scena che in rete con altre regioni del centro-sud come la regione Marche, la regione della Calabria, la regione della Campania decidono di cimentarsi in questa prospettiva che vede coinvolti i ragazzi di 18 anni sud per un progetto di formazione rispetto allo spettacolo e al teatro. Ricordo sempre che la cultura è il primo passo in avanti per rendersi liberi all'interno di questo pianeta Terra quindi il Comune si farà trovare a fianco a questo ambizioso progetto mettendo a disposizione la propria assistenza, le proprie strutture dal teatro polivalente di Malbaccaro dove avverrà la formazione fino al teatro Francesco Stabile. Tema del progetto sarà il petrolio, ricchezza e possibile violenza per il territorio lucano. Sarà Angela Covucci a curare l'educazione vocale del gruppo. Claudio Malangone lavorerà sul movimento scenico, a Luca Morelli le tecniche interpretative e la clowneria mentre Monica Palese si occuperà della recitazione. A prodo finale sarà la costruzione di un pensiero critico che dimostri come il teatro sia solo la punta di un iceberg fatto di persone, tanto studio, fatica e completa dedizione.